... Ogni volta che avevano bisogno di soldi, assaltavano una farmacia o un hotel, quasi fossero una sorta di bancomat del crimine. Sono stati farmati i rapinatori che in sette giorni hanno terrorizzato farmacisti e portieri notturni della zona nord a Torino. Violenti e a volte gentili con le persone anziane e armati di coltello o cacciavite, i rapinatori, una coppia di fidanzati e un terzo complice, secondo le indagini dei carabinieri della compagna Torino oltre d'ora, hanno messo a segno cinque rapine, minacciando le vittime di morte. Ma le rapine potrebbero essere molte di più. I carabinieri li hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dalla procura per rapina aggravata. Si tratta di un quarantenne residente nel capoluogo piemontese e di una 26enne residente a Torino, fidanzata del primo, e di un 29enne di Torino che è stato denunciato a piedi libero. Avevano costituito una sorta di cooperativa del crimine per sbarcare Lunario. In trio, con responsabilità diverse, tra il 4 e il 7 giugno scorsi, si sono resi responsabili di cinque rapine consumate in due alberghi e tre farmacie. Con i volti coperti da sciarpa mascherina anti-smog, armati con coltello, i rapinatori si presentavano alla reception degli alberghi in orale notturno o al banco delle farmacie per farsi consegnare il denaro in cassa. I rapinatori sono stati identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza. La ragazza ha commesso l'errore di abbassare per un istante la mascherina. Ora le indagini proseguono per stabilire se ci siano collegamenti con altre rapine nella medesima area. Grazie a tutti.